Oroscopo del giorno, mercoledì 17 giugno 2020 A rete Amore, oggi sarete molto felici e pieni di voglia di vivere attimi di spensieratezza insieme alla vostra dolce metà. Nel rapporto a due sarete proprio voi a prendere l'iniziativa. In serata riceverete una gradita sorpresa. Lavoro Avete tanti piani in mente e finalmente è arrivato il momento di mettere le cose in pratica. Toro Amore Le emozioni di questo mercoledì saranno un po' particolari. Ogni cosa è rilevante e le emozioni sono chiaramente comprese. Se nella vostra relazione c'è qualche novità, riuscirete comunque a gestirla egregiamente. Lavoro L'umore e le energie sono buone. Oggi sarete particolarmente ingegnosi sul posto di lavoro. Gemelli Amore Questa sarà una giornata decisamente positiva, piena di grandi emozioni. Non mancheranno le sorprese nemmeno in amore, spesso pure inaspettate. La vostra metà della mela vi stupirà con un regalo. Lavoro C'è un'intensa voglia di cambiare i piani. Forse la routine vi annoia un po'. Cancro Amore Le stelle vi baceranno oggi. Questa giornata sarà praticamente perfetta per prendere un po' di forza. Farete delle scelte importanti in coppia. Se state vivendo una storia d'amore, tutto andrà bene e il mercoledì si chiuderà in maniera positiva. Lavoro Siete coraggiosi e avete gli occhi aperti al domani. Potete già pensare ai prossimi progetti. Leone Amore Forse c'è qualcosa che non funziona con il partner e presto potrebbero arrivare a delle novità significative. Se vi trovate di fronte a una decisione importante, ascoltate il vostro cuore, ma non dimenticate nemmeno cosa suggerisce la mente. Lavoro I cambiamenti non vi fanno vivere serenamente, ma voi dovete essere determinati e concreti. Vergine Amore Quanta energia oggi per i nati sotto il segno della Vergine. Siete forti e romperete quell'equilibrio monotono, forse superficiale, che si è andato a creare. L'esigenza è proprio quella di concentrarsi su qualcosa di nuovo e diverso. Lavoro Le circostanze e quello che vi sta attorno stanno mutando. Vi farà bene un po' di aria nuova. Bilancia Amore In questo periodo probabilmente non vi sentite al massimo, ma oggi le emozioni sono tutte da vivere a pieno. Se siete impegnati in una relazione o avete una persona importante al vostro fianco, potete provare a fare una sorpresa speciale. Lavoro Oggi sarete generosi con i colleghi. Qualcuno sicuramente apprezzerà. Scorpione Amore Il vostro partner non vi giudicherà, quindi non createvi dei timori inutili all'interno della relazione. Ricordate che, se tenete la vostra storia d'amore, dovete fidarvi completamente della persona che vi sta accanto. Lavoro Potreste essere finalmente in grado di tirare fuori un'idea brillante. Chi vi sta di fronte potrebbe amare le novità. Sagittario Amore Se siete nel bel mezzo di una relazione troppo piatta, è il caso di cambiare un po' gli equilibri per fare scorrere un po' di energia e sentimento. Potete prendere delle iniziative particolari con il vostro partner. Lavoro Oggi l'impegno sarà fondamentale. La forza non vi mancherà di certo. Godetevi in pieno relax questo giorno di riposo. L'umore è molto buono. Capricorno Amore Oggi le stelle saranno dalla vostra parte e approfittare del loro prezioso aiuto è importante. Voi avete spesso bisogno di incentivi per darvi una mossa. Magari evitate anche di pensare troppo e concentratevi di più sulla parte pratica. L'amore ne beneficerà. Lavoro Il vostro livello di creatività sarà davvero altissimo in questo periodo. Sfruttate ogni occasione. Presto i risultati sul lavoro arriveranno. Acquario Amore Senz'altro questo non è un momento semplice per voi, ma le stelle vi danno la forza necessaria. Non perdetevi nelle vostre mille riflessioni. Sentitevi più liberi anche e soprattutto di amare. Lavoro Per raggiungere obiettivi e sogni dovete prima capire chi siete davvero e che cosa volete. Pesci Amore Questa giornata sarà molto particolare. Le stelle sono buone e potete diffondere tutto il vostro amore alla persona amata. Chi sta al vostro fianco non potrà proprio fare a meno di avervi vicino. È una cosa molto bella. Lavoro Se avete degli importanti discorsi di lavoro, oggi è la giornata perfetta per farli o prepararli. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Per raggiungere obiettivi e